il problema sarà ricordarsi il percorso quello va detto pure lui sul percorso dicei Veronica Lancia siamo sempre in attesa di Silver One a seguire Optane Easy Rider in tuta allargati vai drossa su tutta la pista vai drossa direzione allargati bene al centro un po' di gambe via guardate il giro Antonio era netto il percorso di DJ Optane Easy Rider in tutta la pista due fermo fermo aspetta quello lì vai guarda questo continua un po' ok bravo la carezza troppo troppo non fermare troppo ok e passo bravo una carezza passo non uscire altro 8 sto 5 anni passo non devi imparare a uscire sempre bravo 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 lui guarda il 2 va bene fai un attimo di centro stai lì bravo 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 Grazie.